Gli spettri sono soldati d'elite del dipartimento specialisti tattica e ricognizione che rispondono unicamente al consiglio della cittadella. Sono autorizzati a prendere qualsiasi misura necessaria per neutralizzare le minacce alla pace e alla stabilità galattica. Possono agire singolarmente o in gruppi formati da due o tre spettri. Alcuni di loro preferiscono risolvere le crisi con la diplomazia ricorrendo alla forza solo quando strettamente necessario. Altri invece sono dei veri e propri killer pronti a uccidere chiunque si opponga al volere del consiglio. Ma tutti portano a termine la propria missione in un modo o nell'altro, spesso sottraendosi ai vincoli delle leggi galattiche. Il dipartimento degli spettri venne fondato dopo l'ingresso dei Salarian nel consiglio. Per molti anni agirono segretamente, risolvendo numerose crisi delicate senza dare nell'occhio. Fu solo dopo la rivolta dei Krogan che le loro attività vennero rese pubbliche. L'impiego di uno spettro è senza dubbio meno incisivo di uno schieramento in forze dell'esercito, ma indica l'interesse del consiglio nei confronti di una particolare situazione.